La pena sì, ma voi andate a quella chiesetta che è stata di Porta Napoli, no, eccetera, eccetera. Il problema reale, quindi, qual è? La città, la città di città Pettino, si può costruire o non si può costruire per Rossi? Se si ricostruisce, che si fa? E Pettino va subito ricostruita, perché per ricostruirla ci vogliono tre anni, non ci vogliono cent'anni, ce ne vogliono due se ci sono le risorse, però prima bisogna decidere Pettino sì o Pettino no. Il centro storico, quali sono le case da abbattere, il vuoto, quale sarà il vuoto, in relazione al vuoto, che si farà? I nostri congenitori ci hanno fatto gli occhi, facciamoci gli occhi, è una battuta, ma questa è la problematica. Certo, la città di Pettino no, privato o pubblico? Che c'indenti? Scusate. Che c'indenti del pubblico o privato? Ma l'insieme non è un problema. Che c'è un privato no? Scusate, io intendo la Civitas, la Civitas è l'insieme, cioè non è un problema di pubblico o privato. Ma non vuoi fare Pettino? No, Cucì, allora ti spiego, se vuoi rimettere su tutta Pantanavoli e così via, non è complicato, lo vuoi fare benissimo in poco tempo. Cioè, secondo me, bisogna dare la priorità alla città extramenia perché tu lo risolvi in tempi brevissimi e riattivi tutta l'attività produttiva e commerciale. E nello stesso tempo avere chiare idee sul centro storico, quello che rimane e quello che fa cambiato. Stop, se non facciamo questo, i master plan, i grandi architelli, cioè non faremo un tipo di pop.